Il segreto, Marcella e Mattias finalmente genitori Ben ritrovati con un nuovissimo appuntamento dedicato alla famosa soap opera spagnola Il segreto creata da Aurora Guerra Vi anticipiamo che dalla Spagna arriva una bellissima notizia, perché gli spoiler ci rivelano che Marcella del Muolino e Mattias Castaneda diventeranno finalmente genitori. Beatriz Lascia Puente Viaggio Se non avete avuto modo di vedere le puntate italiane recenti, vi ricordiamo che Marcella e Mattias si sono sposati, per chi non lo sapesse questultimo ha fatto questo grande passo, perché si è preso le sue responsabilità di padre, altrimenti sarebbe rimasto al fianco della figlia di Hernando dos Casas. Come vi abbiamo raccontato negli articoli precedenti, purtroppo nel mese di febbraio 2018, il figlio di Emilia e Alfonso intraprenderà una relazione extraconiugale con Beatriz, ma dopo aver rischiato di perdere sua moglie, cambierà il suo atteggiamento, il particolare Mattias deciderà di essere fedele a Marcella. A questo punto Beatriz Dopo essere stata lasciata per lennesima volta dal figlio dei Castaneda, si getterà tra le braccia di un nuovo personaggio, chiamato Aquilino Benegas, ma purtroppo successivamente, lascerà Puente Viaggio, perché andrà a vivere in Cecoslovacchia con Hernando e Camila. Il parto di Marcella come vi abbiamo appena raccontato, i Dos Casas non sono più presenti nelle puntate spagnole di questa sop, precisamente dalla fine del mese di settembre 2017. Inoltre vi riveliamo che Mattias e Marcella dopo la partenza di Beatriz si sono riavvicinati, e non solo, perché le anticipazioni degli episodi che andranno in onda sullemittente televisiva spagnola Antena 3 tra mercoledì 10 e a giovedì 11 gennaio 2018, ci rivelano che ci sarà un lieto evento a Puente Viaggio. In particolare Marcella avrà delle forti contrazioni mentre si troverà nel bosco con la sua amica Fè, fortunatamente andrà tutto per il verso giusto, perché la moglie di Mattias grazie all'ex domestica di donna Francesca Montengro darà alla luce la sua bambina, e la chiamerà con lo stesso nome della madre naturale di Emilia. Per finire vi riveliamo che Alfonso e Mattias dopo aver condotto varie ricerche troveranno Fè e Marcella, e saranno felicissimi quando vedranno la piccola Camellia. Ci teniamo a comunicarvi che molto probabilmente i telespettatori italiani avranno modo di vedere il parto di Marcella su Canale 5, ad autunno, a causa della distanza temporale tra la messa in onda spagnola e quella nostrana. Se volete leggere altre anticipazioni spagnole su questa cancelletto telenovela, vi consigliamo di cliccare sul pulsante Segue, che trovate nella parte alta di questa notizia, vicino al nome dell'autrice.